Restituite questa mattina alla città due pregiate opere scultore in largo principessa Pignatelli. Si tratta di una fontana circolare in marmo della prima metà dell'Ottocento e del monumento in bronzo del generale Enrico Cosenz realizzato da Giuseppe Renda e solennemente inaugurato nei primi anni del Novecento. Il fatto di ritrovarli qui ci riempie di piacere, è un pezzo di città non trascurabile che riemerge. Dai bandoni ci fa piacere essere qui per portare un contributo non solo di rispetto nei confronti di chi lavora perché questo è un lavoro molto importante sia come struttura imprenditoriale sia anche come difficoltà di esecuzione ma anche e soprattutto fatemi dire a chi lavora su elementi di dettaglio quali appunto la statuaria che però concorrono a pieno titolo a definire questo paesaggio e questo panorama urbano. La fontana marmorea, priva dell'originario elemento decorativo, è stata arricchita con una statua in bronzo di Giovanni De Martino che riproduce un giovane pescatore, un tema caro ai veristi napoletani di fine Ottocento. Le opere vanno a completare la sistemazione dell'area di San Pasquale dove emergerà la stazione della linea 6 della metro. Abbiamo realizzato la riqualificazione urbana di Largo Principessa Pignatelli nell'ambito dei lavori di costruzione della stazione San Pasquale della linea 6 della metropolitana di Napoli. Questo intervento di riqualificazione è stato completato già a fine gennaio di quest'anno. Stamattina abbiamo riconsegnato i due monumenti che erano stati precedentemente spostati all'inizio dei lavori nel 2008 e abbiamo riconsegnato al Comune di Napoli e quindi alla cittadinanza a seguito di un lavoro di restauro per noi importante, assolutamente di valore che è stato eseguito poi con la collaborazione della sovrintendenza che ha approvato il progetto e che stamattina è venuto qui con noi. Completiamo la sistemazione sia della piazza che della strada, sistemazione che si aspettava da un po' di tempo, l'abbiamo portata a termine, siamo soddisfatti. Stava portata a termine nei tempi previsti, adesso ci aspetta la fase ben successiva che è completamente le stazioni di piazza La Repubblica, La Metropolitana, Linea 6, insomma tanto altro lavoro da fare.